ciao a tutti ragazzi oggi andiamo a vedere come mettere una mod su minecraft per giocare alla saga di dragon ball allora questa mod già c'è da qualche anno insomma però è stata molto aggiornata e quindi dovrebbe ripeto dovrebbe contenere anche diciamo gli ultimi eventi della saga di dragon ball tra cui quindi le varie trasformazioni nuove del 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 saian super saian blu il super saian god diciamo tutte queste cose allora non farò un video ovviamente sul gameplay perché abbastanza diciamo basto quindi e comunque vi ripeto il questa modo non è recente quindi ci si trovano su youtube gameplay dove potrete capire un po come si gioca noi a noi interessa soltanto vedere come far partire la moto allora qui chiude il gioco il supremo ci guarda da dietro e approva questa cosa quindi possiamo andare avanti salviamo e usciamo esci allora prima cosa in descrizione qui sotto troverete un link per questo sito qua ci sarà sempre prima la pagina di ad fly mi raccomando se vi chiedete a consentire alle notifiche dovrete farlo arriverate a questa pagina cliccate qui su download and installation arrivati qui dovrete scaricare questi quattro file che si trovano qui sotto 1 2 3 e 4 ok sono tutti file di java quindi se non avete java sul pc il mio consiglio è di cercare java su google andare sul sito proprio di java quello originale e scaricare java da lì ok se non avete java sul pc a parte che minecraft stesso non funzionerà serve comunque scaricate allora ecco qua i quattro file scaricati la prima cosa che dovrete fare è cliccare sul primo forge fateci un doppio clic sopra si aprirà questo questo menu lasciate la spunta sul primo install client cliccate su ok si aprirà questo diciamo piccolo procedimento cliccate su ok e avete fatto secondo passaggio allora dovete premere il tasto di windows sulla tastiera tenetelo premuto e cliccate r si aprirà questa finestra di esegui dovrete scrivere questa questa parola qui contenuta in due percentuali cioè per cento e per cento quindi cliccate fate il simbolo del per cento poi scrivete app data in minuscolo e chiudete tutto sempre con un per cento non so se si legge piccolino magari metterò un messaggio diciamo una scritta un po più grande per farvi vedere come è scritto cliccate su ok quando avrete fatto si aprirà questa cartella con la cartella all'interno di minecraft apritela ci sarà una cartella mod all'interno di questa cartella se non si è creata la cartella mod createla voi cioè create una cartella e chiamatela mods aprite la cartella mods e come vedete io l'ho già fatto bisogna mettere i restanti tre file a parte forge che serviva solo per l'installazione questi tre file li metterete in questa cartella questa è un'altra mod che non ho usato in questa perché non so se poi funzionava o no comunque fate voi esperimenti se volete utilizzare più di una mod per vedere se funziona a me in questo momento interessava soltanto la mod di dragon ball e basta così ragazzi avete già fatto tutto adesso dovrete soltanto avviare i client di minecraft grazie funziona soltanto con minecraft originale o con la versione che trovate sul mio sito apparirà qui in alto diciamo una finestrella che vi porterà a quel video lì dove vi faccio vedere come installare minecraft funziona solo con quelle due se avete minecraft quello l'ha proprio craccato non so se funzionerà dovete provare non lo so allora minecraft dove sta eccolo qua lascio in finestra perché sennò il mio programma non riesce a registrare minecraft allora come vedete qui c'è il forge che ho installato prima vedete come si chiama il file insomma forge questo qui avrà lo stesso nome qui ok lasciate il fogo questo forge qui come gioco e cliccate su gioca ci metterà un po' a caricare tutto perché la mod è un po' diciamo pesante quindi ci metterà un po' a caricare il gioco eccolo qua che si mette a caricare ok eccoci qua allarghiamo solo ma lasciamo a finestra facciamo il giocatore singolo ecco questa è la partita che ho fatto prima vabbè facciamo questa qui lo stesso eccoci qua quando aprirete la prima volta anche in qualsiasi caso aprirete il gioco di nuovo ci sarà questo menu allora da qui in basso c'è il menu della mod ok qui potrete qui ci sono gli attributi del personaggio che potranno essere aumentati poi perché è una specie di rpg ragazzi però alla fine ci sono i punti da distribuire non so esattamente i punti come si prendono penso andando avanti con la storia qui ci sono le skill che al momento non ne ho perché ho iniziato prima la partita qui potrete creare diciamo le mosse la kamekamea le varie diciamo skill che imparerete dai vari strutturi il training penso che si serva per combattere contro un manichino qui c'è la storia in pratica ci sono delle missioni non è tanto poi la storia che riportano mano mano alla storia di dragon ball come vedete la prima missione che avrete è uccidere i saibiam saibiam non mi ricordo manco come si chiama dovete uccidere i n6 che in pratica spawnano appena parte con start spawneranno non credo che possa partire qui sul palazzo del supremo dovete andare in una zona un po più lontana dal palazzo in pratica appena premete start appariranno questi sei e non sono tanto facili da ammazzare vi so subito una volta ammazzati vi daranno un punteggio insomma che daranno dei punti che poi potrete spendere da da questi qua insomma dagli npc per dire imparabilità come vedete ogni abilità ha un costo io ho solo 5 punti ne servono 20 per dire per imparare il volo 30 per il volo potenziale sbloccato resistenza meditazione chi senza ovviamente ogni personaggio vi fa imparare un'abilità diversa qui dentro c'è anche vegeta e trunks del futuro vediamo vegeta che ci dice ciao vegeta impara abilità scatta potenziale resistenza vediamo l'altra ecco vedete sfera energetica costa 135 tp io ne ho 0 quindi bisogna fare attacco big bang lampo finale gallic gun e palla energetica attacco big bang costa una cifra qui c'è trunks e beh la stessa cosa un po vale per tutti potrete anche scegliere il personaggio che volete giocare se mi ricordo il tasto ma vabbè non mi ricordo comunque potete all'inizio scegliere non sono abbastanza forte meglio ricaricarsi invece c'è pure laura guardate è figo come è fatto adesso sono più forte con laura basta un colpo per ammazzare la pecora va beh poi il resto ho detto non voglio fare un video che vi spiego come si gioca perché comunque l'unico consiglio che vi posso dare all'inizio è di guardare in alto a cercare il palazzo del supremo andate lì arrampicatevi lungo l'obelisco arriverete per prima cosa dal gatto lì non mi ricordo come si chiama che vi darà la nuvola speedy questa qua che adesso non posso usare qui nel palazzo però mi permetterà di volare e vi darà un senzu che il fagiolo magico quello che vi serve per recuperare la vita devo solo farvi vedere la nuvola speedy allora se scegliete il saian c'è l'umano il saian il namecciano e ovviamente scelto il saian che vedete ma crepo no a parte che c'è l'acqua ma non sarei crepato lo stesso perché il saian non muore per la caduta né tantomeno per gli zombie allora mettiamo la nuvola speedy eccola qua con la nuvola speedy all'inizio possiamo anche volare quindi questo vedete questo è il palazzo del gatto tramite l'obelisco arriverete lì dal gatto che vi darà la nuvola speedy e il fagiolo poi salite più su vabbè che all'inizio non è molto importante salire su e l'ho fatto solo per farvi vedere per parlare con i maestri diciamo qui c'è il supremo ho fatto vedere getta e trunks qui ci sta anche junior c'è anche goku da qualche parte nella mappa però non è qui c'è anche babidi perché potete anche scegliere di diventare cattivi quindi a diventare allievi di babidi quello di majin bu e sarete un saian cattivo diciamo così quindi ci sono vari elementi diciamo della storia che però lascio a voi già ho detto abbastanza vabbè ragazzi non mi chiedete suggerimenti sul gioco perché a parte l'inizio non ci ho giocato quindi non vi so dire esattamente tutto noi ci fermiamo qui comunque il procedimento come avete visto è molto semplice mi raccomando se vi sono stato utile iscrivetevi al canale e lasciate un like qui sotto se vi va lasciate pure un commento fatemi sapere se siete riusciti o no se la mod vi piace noi ci vediamo ad un prossimo video raga ciao